ciao a tutti vi voglio far vedere una vecchia versione di epi run presente su sidequest è un app fitness di movimento che permette l'allenamento con la corsa eccola qui c'è la nuova versione su app lab questa è la vecchia versione che vale sicuramente la pena dargli un'occhiata dovete andarvi a scaricare questa versione qua direct apk download 0 2 e ve la salverà in origini sconosciute per chi non conosce epi run è un app di allenamento alla corsa che ci si muove in questa maniera qui e praticamente più si va veloce e più si corre all'interno del gioco quindi andiamo a vedere l'app che questa ci mettiamo al centro dell'area di gioco anzi prendiamo i controller prendiamo ok centriamo la visuale questa è la ragazza che dovrebbe incentivarmi alla corsa all'improvviso fa uno scatto incredibile e se vuoi raggiungerla devi correre come un dannato così il livello della grafica è buona la qualità grafica anche se la nuova versione era un livello superiore ma questa è più completa al momento perché c'è anche la musica corso tanto stasera non credo che riesca raggiungerla così corre tantissimo e niente era solo per farvi vedere l'azzo questa app ha bisogno di avere i controlli in mano perché con i controlli determina in che direzione stai davanti in effetti posso anche girare lo sguardo e continuo ad andare avanti perché direi conto non l'azzo è così importante essere consapevoli di questa cosa qui altrimenti potete impegare i movimenti grazie a i 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